Il caso Bizzo è archiviato. Ieri l'Assemblea del PD ha deciso che non si faranno le primarie del partito a Bolzano in vista delle elezioni comunali e che Luigi Spagnoli sarà il candidato di quelle eventuali di coalizione. Il tutto accettato anche dallo stesso Bizzo. Ora il quesito sorge spontaneo. Tutta questa bufera che ha imperversato negli ultimi 20 giorni sulla politica di centrosinistra a Bolzano ha danneggiato o no Spagnoli? Siamo in una situazione di ristrettezze temporali. Le elezioni sono alle porte e quindi abbiamo dovuto dedicare del tempo a questa cosa che magari si poteva dedicare meglio ad altro. Però certamente parlarsi è sempre meglio che non farlo. Parlando del futuro il sindaco uscente che si ricandida spiega di voler avere a che fare con una città meno passiva, più propositiva e non parla solo dei politici ma anche dei semplici cittadini. Poi guarda nuovamente al mandato che sta per concludersi e cita quello che secondo lui è stato il progetto più importante tra quelli condotti in porto, ossia l'apertura del museo nella cripta del monumento alla vittoria. Per la prossima legislatura invece la priorità sarà il lavoro. Noi dobbiamo far ripartire l'economia della città per dare lavoro. In questo momento il grande problema è della nostra città e che non ci sono opportunità per i nostri figli, per i giovani che arrivano nell'età in cui devono cominciare a lavorare e non cominciano. Ci sono trentenni, ultra trentenni che sono ancora alla ricerca del primo impiego. Il tema della sicurezza è ovviamente in agenda. Spagnoli chiede più collaborazione da parte dei cittadini. Dobbiamo abituarci a segnalare alle forze dell'ordine quando vediamo che qualcosa non funziona. Già lo facciamo, possiamo farlo di più. Altro tema che troverà certamente spazio nel programma elettorale è quello dei trasporti. Il sindaco di Bolzano intanto nutre forti dubbi sulla soluzione Metrobus scelta per collegare il capoluogo all'oltradige. Io resto convinto che il tram sarebbe stata una soluzione migliore, però la provincia ha optato per il Metrobus dicendo che costava di meno. Spero che alla fine davvero si dimosi che costava di meno. Infine un cenno alla sua vicenda giudiziaria con la recente chiusura delle indagini sul caso 20B se il rischio che venga a suo carico chiesto il processo per abuso in atti d'ufficio. Io ritengo di non aver commesso reati e quindi sono assolutamente pronto a difendermi in ogni modo con la consapevolezza della persona pulita. Grazie.